a modo suo guarda se ti viene a aprire il microfono ecco qua puoi andare? pronto? ecco qua ok, sei pronto allora? ecco, il mondo si è già preparato con l'altro microfono perché deve amplificare la parte sinistra della fisarmonica deve amplificare i bassi della fisarmonica di Daniele Donnelli che si segue la più classica delle mazzurche però a modo suo signore e signori, la celebre mazzurca banale è Augusto Migliavacca vai Daniele! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.